Per la prima volta ad Arezzo, dagli archivi della Fondazione Alinari, oltre 50 scatti che ritraggono l'Arezzo della prima rivoluzione industriale. Ma ci porta in un viaggio, in un viaggio durato circa 100 anni, in un mondo in cui c'è una transizione proprio, anche un mutamento della civiltà retina, una civiltà fatta di lavandaia, di monaci, di gente operossa che lavora di campagne e della nostra città. Quindi dove possiamo vedere un po' anche la transizione operata dalla nostra provincia, dal nostro territorio, dove si parte anche da un paesaggio industriale come quello della Lignite nel Valdarno e dove si arriva alla città di Arezzo, dove si vedono le nostre belle strade, i nostri campi, un viaggio veramente meraviglioso in un mondo che non c'è più ma è ancora presente in maniera forte. Direi che la mostra deve essere vissuta come un percorso narrativo. Chi l'ha allestita, cioè i tecnici della Fondazione Alinari, ha pensato proprio di narrare attraverso le fotografie che sono un insieme di paesaggi, di oggetti e di persone, un vero e proprio percorso che da Arezzo, dalla città, dalle sue strade, dalle sue piazze, va nei paesi vicini, territoriali e poi lungo il fiume, che è un tema che Vittorio Alinari scelse appositamente come tema fotografico per arrivare poi ad una scoperta importantissima, quella delle miniere di Lignite che ricordano una sorta di civiltà pre-industriale e sembra quasi di trovarci in un luogo americano e quindi anche questa è una bella scoperta per questo itinerario di fotografie Alinari. Ecco, c'è un grande sforzo anche per la conservazione di questi sca? Un patrimonio complesso perché si tratta di 5 milioni di oggetti, fotografie positivi, negativi, documenti, libri, apparecchi fotografici che ovviamente devono trovare una casa in cui non solo stanno bene ma sono anche consultabili e ci si può fare su appunto ricerca, promozione, valorizzazione.